Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata di Rosso Blu 85, il nostro approfondimento del martedì sera dedicato al Taranto. Passo subito alla presentazione degli ospiti, anche perché abbiamo davvero tanta roba, tanto materiale, pertanto non perdiamo tempo. Grazie, salutiamo Claudio Miale, un ex del Taranto, in questo caso visto che parleremo molto di Taranto Brindisi nel post-gara è un doppio ex in questa circostanza. Grazie Claudio per essere venuto nei nostri studi. Andiamo subito a Taranto, nella redazione di Taranto di Canale 85, in Corso Umberto via Giovinazzi, dove c'è Enrico Lossito che ha un altro importante ospite con il quale avremo un confronto, un dibattito stasera per approfondire i temi legati non solo al Taranto ma anche al campionato di Serie D relativamente al Gilone H. Ciao Enrico, buonasera. Buonasera Gianni, buonasera ovviamente a Claudio Miale, a tutti i telespettatori. Io qui Nicola Sbremek, ex portiere del Taranto, ma anche ex preparatore dei portieri del Casarano, qui il doppio ex della gara che verrà. Buonasera Nicola. Buonasera Enrico, buonasera Gianni, grazie per l'invito. Grazie a te Gianni. Grazie, grazie a Enrico, a Nicola Sbremek, indimenticato e indimenticabile direi portiere del Taranto di quelle bellissime due stagioni fino al 2012. Allora una puntata che finalmente ci consente di parlare di calcio perché dopo più di un mese di stop il Taranto è tornato sull'erba dello Iacovone, tra l'altro lo ha fatto vincendo una partita importante e delicata come quella con il Brindisi, un derby, già questo crea delle aspettative, delle difficoltà in più e il risultato sebbene di misura 1-0 comunque è meritato per la formazione ionica che ha creato anche qualche circostanza favorevole durante i 90 minuti. Allora prima di entrare nel dibattito seguiamo il palinzesto, andiamoci a vedere il servizio su Taranto Brindisi e poi analizzeremo insieme con Miale, Bremec, Enrico Lossito questo 1-0 fra Taranto e Brindisi. Vediamo. Il derby si tinge di rosso-blu, successo di misura per il Taranto dopo un mese di stop decide a quadro con un velenoso colpo di testa che beffa pizzolato allo scadere del primo tempo. La gara parte lenta ma si conclude con tanta intensità, c'era forse da aspettarselo vista la lunga pausa forzata. Le novità di formazione stanno in particolare tra gli juniors, nel Taranto si rivede dall'inizio Serafino, la Gzir resta in panca mentre De Luca sceglie Palumbo. Per vedere la prima azione da raccontare bisogna attendere 13 minuti quando proprio Palumbo pesca sul secondo palo la carra la cui acrobazia è tanto bella quanto imprecisa. Circostanza analoga 11 minuti dopo, Guaita lavora di forza un buon pallone, lo serve in aria dove Falcone prova la sforbiciata alzando però la mira. È il 28esimo quando Yaya si avvicina minaccioso alla porta ionica ma il suo tiro è deviato da Rizzo che salva. Il Brindisi riparte bene ma non riesce a concretizzare, botta, mette il turbo, l'azione in velocità vede Palazzo servire la carra, quest'ultimo di sinistro conclude senza la forza necessaria. Poco prima del vantaggio Guaita mette in imbarazzo pizzolato su un tiro cross che costringe l'estremo difensore Brindisino ad una respinta affannosa. La rete da tre punti giunge al quarantesimo quando con il tacco Falcone serve la corrente Caldore che pennella un assist sul primo palo per a quadro che beffa pizzolato di testa fuori dai pali. La reazione bianca-azzurra non si fa attendere, al quarantatresimo la carra si vede soffiare il pallone da boccia proprio nel momento in cui stava per battere il rete. Nella ripresa è del Taranto il primo squillo con il solito Guaita, l'argentino al sedicesimo vede infrangersi sull'ex d'Angelo la possibilità del raddoppio. 6 minuti ancora ed il Brindisi alla palla buona per pareggiare Maglie si trova sul destro il pallone dopo un pasticcio difensivo rosso-blu ma da buona posizione spedisce sugli spalti deserti dello Iacovone. Nel finale ancora Palumbo servito da Merito si avvita in aria a Tarantina ma spara altissimo. Al sesto minuto di recupero nell'ultimo disperato attacco del Brindisi in avanti c'è anche il portiere Pizzolato la cui acrobazia però non ha buona sorte. E dunque abbiamo visto le immagini salienti di Taranto Brindisi, adesso io vorrei salutare in collegamento Skype anche il calciatore del Taranto Luigi Falcone, vediamo se mi ascolta e mi vede. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera Falcone, grazie per questo contributo a rosso-blu 85, allora li vediamo inquadrati contemporaneamente sia Luigi Falcone che Nicola Sbreme che insieme con Enrico Lossito qui in studio da noi c'è Miale. Allora Claudio iniziamo subito col commentare questo successo, importante soprattutto perché giunge un successo per il Taranto, una vittoria, poi in una partita così delicata e adesso c'è un pizzico di fiducia in più. Il tuo commento, il risultato, poi faremo il giro di opinioni. Sicuramente è un risultato importante, quando si tratta di recuperare un match i tre punti sono importanti anche perché non gioca nessun altro, a parte si è giocata per fortuna Nardò Casarano, è andata come tutti noi volevamo quindi con la vittoria del Nardò, quindi domenica c'è questo scontro tra due pretendenti ovviamente alla vittoria finale, quindi è stata una partita sicuramente difficile da vincere, visto anche il momento per tutti, quindi aver vinto 1-0 con fatica perché è giusto che sia così contro un'altra buona squadra come il Brindisi, quindi due compagini che sinceramente hanno combattuto e hanno giocato anche molto bene sul piano tattico, quindi è stata una partita molto tra virgolette abbottonata, ricca di pochi episodi proprio per la qualità dell'organizzazione, quindi va dato merito al Taranto di aver vinto una partita che spesso si decide con degli episodi. Sentiamo Luigi Falcone, il commento con mente serena ovviamente dopo più di due giorni a questo risultato e in particolare il commento, qual è l'atmosfera che si respira all'interno dello spogliatoio adesso dopo il ritorno al successo? Siamo molto molto contenti, è stata una partita particolare perché dopo quello che abbiamo passato in questo mese stare fermi non è mai semplice, la partita è stata anche molto molto difficile e quindi dobbiamo vincere, abbiamo dato una buona prova di carattere e quindi abbiamo ottenuto un grande successo per noi. Falcone è anche ovviamente un successo che dà respiro al vostro morale, perché poi dopo la battuta d'arresto del 18 ottobre adesso è stata definitivamente cancellata con questa vittoria, poi i risultati bisogna dire che effettivamente hanno anche in qualche modo agevolato la rincorsa che il Taranto sta facendo alla vetta. Sì, era importante anche per questo, noi entriamo in campo ogni domenica per vincere, sicuramente la partita di Sorrento è stata un po' particolare perché abbiamo fatto una buona prova, però i tre punti non sono arrivati e quindi ripartire così con tre punti importanti per la nostra classifica era fondamentale. Ecco, fisicamente come va? Perché poi non giocare per più di un mese, nel bel mezzo del campionato, dopo un mese di partite ufficiali, non è una cosa semplice, almeno questo è quello che pensiamo guardando dall'esterno e un po' forse si è notato anche l'inizio della partita perché i ritmi erano un po' compassati. Sì, specialmente il primo tempo con quel campo pesante è stato complicato, poi per me che venivo comunque da una preparazione non fatta alla fine, tornare a giocare è stato importante perché comunque posso riprendere minutaggio, il mese è servito sicuramente per stare di più insieme, per amalgamarci di più, per ora finalmente si può tornare in campo. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini che ci sta mandando in onda il nostro regista Michele Marchitelli, le immagini del gol decisivo, quello di Aquadro che è giunto a cinque minuti dalla fine del primo tempo. È stato un tacco di Falcone che ha innescato Caldore, che ha pennellato questo cross proprio per la testa di Aquadro che sul primo palo ha beffato, pizzolato, forse leggermente fuori dai pali in questa circostanza, però diciamo che il gol è stato davvero un gol bello a vedersi qui, lo stiamo vedendo davvero in tutte le salse, in tutte le inquadrature possibili. Io tornerei adesso, mentre scorrono queste immagini, alla redazione di Taranto da Enrico lo sito è Nicolás Bremec per commentare l'effetto positivo che può avere sulla testa dei calciatori e anche sulla classifica questo risultato contro il Brindisi. Certo, Nicolás, importantissimo, di fatto in un campionato, lo abbiamo definito spezzatino, è importante ripartire bene perché è come se fosse stata la prima giornata di campionato, una gara non bellissima, però il Taranto ci ha messo cuore e muscoli. Sì, diciamo come dici tu, sicuramente non è stata una gara bellissima anche perché dopo stare un mese fermo non è facile ripartire, penso sia stata una vittoria importantissima a livello morale perché dopo di venire una sconfitta in casa col Sorrento e dover affrontare questa partita dopo un mese facendo allenamenti ma senza poter fare amichevole, senza fare delle partite e mantenere il ritmo del campionato non è facile arrivare, quindi penso che quando arrivi queste partite che sono un po' complicate alla fine riesci a sblocarle, vincerle, ti tira sul morale al gruppo anche per affrontare la prossima partita col Cassarano. Io volevo porre anche una domanda a Luigi Falcone, visto che abbiamo parlato di questo mese di stop e del fatto anche che lui ha saltato la preparazione. Questo mese Luigi quanto ti è servito e soprattutto proprio a livello percentuale di condizione fisica, visto che eri alla prima, se non mi sbaglio, dal primo minuto in rosso-blu, come stai e quanto tempo ti servirà ancora per entrare al top della forma? Sì, è servito tanto anche per entrare bene negli schemi e per conoscere i compagni, la percentuale non la so, però comunque ho fatto un 65 minuti dove non ero alla fine tanto stanco, ho subito all'inizio un po' sicuramente il campo pesante e per tutto il corso della partita, però sicuramente in due settimane sarò al top della condizione, assolutamente. A te Gianni. Ecco, io vorrei ritornare su uno dei temi portanti di questo ritorno in campo di Taranto e Brindisi, perché anche Brindisi tornava in campo dopo diverso tempo, una settimana in meno rispetto al Taranto di attesa. Ecco, la mancanza di pubblico, Claudio, può aver influito in qualche modo su questi ritmi blandi che si sono trascinati un po' quasi per tutta la partita, tranne paradossalmente nella parte finale in cui abbiamo visto tanta intensità dall'una e dall'altra parte. Sicuramente, come diceva Nicolas prima, il fattore condizionante maggiore è interrompere il campionato in corso, quindi è come rifare magari una preparazione addirittura senza poter fare le amichevoli. Credo che sia stato pesante in questo periodo non poter simulare la partita. Per quanto riguarda le porte chiuse, credo che allunga questo fattore, sarà un fattore determinante nel bene o nel male, quindi chi avrà agonismo, chi secondo me come caratteristiche sarà una squadra con agonismo e forza fisica, subirà a meno questa pressione, nel senso che le porte chiuse un po' condizionano, soprattutto quando c'è da azzare il ritmo, quando nei momenti difficoltà in casa. In questo caso, visto che la squadra e il Tanto stanno andando molto bene, sicuramente l'apporto del pubblico alla lunga può dare quella mano in più, quindi lo sappiamo tutti, come può essere anche in piazze come Brindisi, come Casarano, per carità. Quindi è un fattore limitante per tutti, quindi bisogna darne vantaggi, chi sarà più scaltro sicuramente. Allora, prima di tornare su questo argomento con Falcone, io chiederei alla regia di farci rivedere il gol proprio dal momento della preparazione, c'è questo pallone fermato, la suola sul pallone di Falcone e l'attesa di Caldore per poi far partire questo cross che ha dato ad a quadro la possibilità di segnare questo suo primo gol con la maglia del Taranto. Dobbiamo prendere le immagini dall'alto, quelle del servizio, così magari Falcone ce lo commenta. diciamo che c'è stata anche tanta esperienza da parte tua nel tenere quella palla. Ecco, la vediamo. Vai, commentacelo, Luigi. Io non vedo le immagini. Eh, ma te le ricordi? Sì, 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 le ricordo perché prima potevo andare in porta sulla palla al quadro e poi siccome era un po' più lunga abbiamo perso il tempo giusto, ho aspettato Caldore perché sapevo che potesse mettere una buona palla e poi fortunatamente arrivato il gol. Ecco, c'è il difensore del Brindisi che ti marca, poi Caldore che arriva e questo cross per a quadro che poi fa un gran gol, bisogna dire, perché questa sterzata, come devo dire, questa frustata di testa è stata decisiva anche se con poca forza però con giustezza, ecco diciamo così. Dicevamo, può influire l'assenza di pubblico nel ritmo lento della partita con cui abbiamo visto soprattutto il primo tempo, Luigi? Io spero che il pubblico possa tornare perché parlando personalmente giocare a Taranto e non avere la possibilità di vedere una curva piena oppure uno stato pieno sarebbe brutto. Può influire perché in queste piazze sappiamo benissimo che il pubblico ti spinge e per noi può essere assolutamente un aiuto in più. Allora facciamo così adesso, andiamoci a vedere la scheda di Giuseppe Di Cera che ci darà anche degli spunti per animare il dibattito. Vediamo. Brinda il Taranto che batte di misura, il Brindisi, formazione organizzata ma apparsa poco pericolosa in fase offensiva, la differenza l'ha fatto il colpo di test di a quadro, preciso come un treno giapponese che spesso fanno concorrenza a quelli svizzeri. Il Taranto c'è, il Taranto il ritmo partita in parte e per riprenderlo totalmente è necessario continuare a mettere minuti nelle gambe. Molti calciatori sono apparsi, considerando il fermo per 35 giorni, in uno stato di forma degno di nota. Marco Caldore sulla sinistra ha sfoggiato una prova di gran valore e come un pendolino ha fatto su e giù annullando il suo dirimpettaio. Come un cervo di foresta a centrocampo ha giganteggiato Livoriano Ababucardiabì che ha fatto pesare muscoli e altezza 1,90 come se fosse un leone. Il suo ruggito si è sentito forte, chiaro, accorso sia da chi ho potuto vincendo tutti i contrasti, tutti, senza sconti, un ingordo della mediana che sarebbe meglio non far arrabbiare. L'aspetto positivo di questa gara, Enrico, è che effettivamente abbiamo visto tutti i calciatori del Taranto chiamati in causa interpretare il match nella giusta maniera. Su tutti direi Max Marsili che oltre ad avere la fascia di capitano ha letteralmente trascinato, preso per mano la squadra, dando i tempi, i ritmi e l'agonismo giusto per affrontare una gara così delicata e in particolare un derby. Su questo tema vorrei sapere cosa ne pensa Nicolas Bremec. Certo Gianni, io aggiungo anche a quello che dicevi tu proprio a supporto e poi magari chiediamo anche conferma a Falcone, mi è piaciuto molto stando io a bordo campo la grinta di Diabì che malgrado fosse stato chiamato il cambio dalla panchina, lui proprio non voleva uscire seppur claudicante con i crampi che insomma l'avevano fatto anche buttare la palla al lato. Nicolas, a proposito di quello che diceva Gianni. Io ripeto che non è facile dopo un messe stare fermo e ripartire, giocare una partita al genere e vincerla, quindi a livello psicologico loro hanno fatto un passo davanti molto grande secondo me e questo può aiutare da ora in poi in avanti se ci sono altre partite che devono essere fermate per il covid, dei pubblici, secondo me anche i giocatori, io sapendo come Taranto che la tifoseria può spingere tanto in avanti no? Però purtroppo adesso questa situazione fa che i giocatori si devono adattare a giocare in un diciamo un tie e un altro vuoto, devono fare il click per dire ok da ora in poi va avanti così, quando apriranno le porte magari forse sarà meglio no? Però penso che psicologicamente loro hanno fatto un grande passo in avanti. Non credi che però a proposito dell'assenza di pubblico magari può dare consapevolezza anche ai più giovani, abituarsi magari allo Iacovone anche senza pubblico? Sì, quello può influenzare parecchio e soprattutto i giovani, però bisogna vedere dopo quando aprono le porte no? Magari in questo momento possono prendere fiducia su se stessi, sul campionato e non avere le pressioni che può dare il pubblico a Tarantino tante volte no? Proprio a Luigi Falcone Gianni volevo a proposito chiedere qualcosa su Diabì, incarna un po' lo spirito di questo Taranto combattivo perché come avevamo detto Diabì non voleva proprio uscire, voleva continuare a combattere, a lottare con voi, malgrado fosse stato chiamato il cambio. Sì, l'abbiamo visto tutti che è un combattente, ha fatto una grande partita, poi è un ragazzo molto giovane e ha incarnato alla perfezione questi principi. Quando purtroppo non si riesce a fare una partita a livello tecnico in modo importante si deve giocare su altre cose e noi siamo stati molto molto bravi perché a livello mentale siamo stati sempre presenti, cattivi in partite e alla fine abbiamo vinto anche per questo. Luigi mi dai una tua valutazione sul gruppo Rosso-Blu, questa squadra che comunque è sbocciata in agosto, tu sei arrivato un po' più tardi, però ecco, vista anche la tua esperienza, qual è il giudizio che dai su questo Taranto? Io mi sento di dire che è la nostra forza, perché io sono arrivato tardi, però già dopo una settimana ero integrato alla perfezione e questa deve essere la nostra forza anche per il proseguo, perché siamo un gruppo che comunque ha esperienza, ha tanti giovani e dobbiamo essere noi a trascinare tutti verso un unico obiettivo. Io su questo vorrei chiamare in causa sia Bremec che Miale, il gruppo secondo me rappresenta il 70% della forza di una squadra, perché se c'è lo spogliatoio unito, se è di ferro e faccio riferimento a quel Taranto del 2012 che fece 70 punti in campionato sul campo e arrivò primo con 8 mesi di imbattibilità, non aveva grossissimi nomi, ma aveva una squadra, aveva soprattutto un gruppo e uno spogliatoio di ferro. Claudio Miale. Io l'ho vissuto da tifoso quell'anno, quindi faccio ancora complimenti a Nicolas per quella stagione che purtroppo per cause extracalcistiche non è andata come tutti volevamo. Era il gruppo più unito della storia? Poi l'hanno dimostrato con i risultati, che è quello che dico sempre io quando spesso si parla di gruppo, è successo anche a Taranto, mi fanno piacere le parole di Luigi Falcone da ragazzo perché si vede che sono sincere e quando si parla di gruppo significa che hanno motivazione, si aiutano fra di loro, questo va dato merito che sicuramente sono stati scelti anche per qualità umane. Poi ovviamente c'è oltre ai ragazzi c'è sicuramente la componente dell'allenatore, io dico sempre che spesso la squadra rispecchia il carattere dell'allenatore, al di là se preparato dal punto di vista tecnico, tattico però quando si parla di gruppo, per esempio posso fare un esempio pratico, spesso si dice frasi dette, sì c'è un bel gruppo e tutto, poi magari guardi le partite e vedi che i giocatori che fra di loro... Quindi si può notare dalle partite se c'è gruppo? Sì sì sì, io mi ricordo anche nel recente passato a Taranto, se i giocatori fra di loro si gestivano, non c'era il gruppo, è inutile che poi si diceva, si veniva detto, bisogna quella ipocrisia, invece Luigi sta dicendo cose sincere, si vede come quando mi ricordo l'anno di Nicolas, quando i ragazzi andavano alle interviste, gli stessi staff da Dionigi, cioè si percepiva questa cosa, ed è quello che si percepisce quest'anno, al di là dei risultati, quindi ha voluto dire che è anche la vittoria del gruppo in un momento di difficoltà dove gli episodi fanno la differenza, dopo un mese interrompere e ripartire, quindi faccio i complimenti a Luigi, sono parole da tifoso che a me fanno piacere sentire. Ecco andiamo da Premek perché insomma lui da esperto, con l'occhio che riesce a guardare quei dettagli che magari sfuggono ai più, secondo te Nicolas c'è questo gruppo di cui si parla? C'è questo gruppo Nicolas e soprattutto tu l'hai vissuto, l'avevamo detto anche poc'anzi, forse uno delle squadre più unite e anche più cattive a livello di temperamento perché c'era tanta roba davvero. Penso per le parole di Falcone, per quello che sta dicendo, che c'è il gruppo, anche l'altra volta sono venuto in trasmissione, diceva lo stesso, come si chiamava il giocatore, mi ricordo il capitano, ha parlato anche lui che c'era il gruppo, quindi penso che c'è e poi si vedrà durante il campionato, io non sono all'interno ma mi fido delle parole sue, poi penso che nelle piazze così come Taranto, come altre piazze importanti, è importante avere il gruppo unito, se non ce l'hai è molto difficile andare avanti, noi in quell'epoca là, soprattutto parlando dell'ultimo campionato che abbiamo fatto, che stava parlando Gianni di 70 punti, se non avevamo il gruppo unito non si andavano in una sola parte, magari rimanevamo a metà classifica, a gennaio andavano via 10 giocatori perché se vi ricordate bene da ottobre in poi non ci hanno più pagato, quindi lì ci siamo aiutati tra di noi all'interno del gruppo, in ogni singolo che aveva qualche tipo di problema, anche se economico per venire a allenare o altri tipi problemi perché non arrivavano i soldi, bene o male siamo riusciti a risolverli con Fabio, con i più grandi, quindi lì abbiamo dimostrato che c'era un gruppo, era un gruppo anche di amici perché poi se mi ricordo ogni mercoledì o giovedì sera andavamo a cena in 10, in 12, chi veniva che no, quindi era un gruppo che io me lo porterò sempre avanti come esperienza di questi vent'anni di carriera di come calciatore. A te Gianni. Vediamo la classifica adesso perché ecco Falcone diventa un po' più guardabile se si considera che i risultati dei recuperi che sono stati disputati, la sconfitta del Casarano che viene indicata come una tra le favorite più importanti di questo girone H, però ecco con la collaborazione di Michele Marchitelli vediamo che lì c'è sempre il sorrento a quota 16 però rispetto al Taranto per esempio ha una partita in più. Vorrei sentire qual è il parere di Falcone su questa nuova classifica per quello che si può dire visto che ci sono comunque ancora tante partite da recuperare, è una classifica che definirei fittizia, fittizia. Falcone. Sì, ancora presto ovviamente, il nostro obiettivo come ho detto prima deve essere quello di giocare e pensare partita dopo partita. Noi siamo comunque una squadra che è costruita per fare qualcosa di importante e quindi vedremo tra un po' dove saremo. La nostra buona volontà è tanta perché comunque siamo tutti uniti proprio per questo motivo, per fare qualcosa di importante. Però ecco il Taranto ha 10 punti, il Sorrento ne ha 16, però il Taranto è una partita in meno, questo significa che potenzialmente andando a fare il risultato pieno a Casarano si potrebbe avere una classifica che ci direbbe meno 3 dalla vetta Claudio, quindi questo bisogna tenerlo a mente perché può essere anche uno sprone, un'idea intrigante. Sì, tre punti in questo periodo dell'anno sono l'inizio, quindi di certo sarà una partita importante ma non fondamentale quella di Casarano, quello sì è inutile nascondersi anche perché oggettivamente è uno sconto diretto, è un'altra piazza, è una società che ha investito tanto, quindi sicuramente sarà una diretta concorrente anche in futuro oltre alle altre, quindi saranno punti pesanti in un periodo dell'anno non decisivo ma fondamentale. Ecco Falcone, torniamo al derby col Brindisi, abbiamo visto questa linea di tre quarti con Aquadro che ha segnato il gol decisivo, poi tu eri centrosinistra, Guaita centrodestra, poi in panchina insomma c'erano giocatori di grande spessore, cito Matute, Stracqualursi, Lagzir che era stato indicato come tra i migliori nelle prime tre partite di campionato, come valuti la prestazione di questa linea di tre quarti che ti interessa? Allora, sì, si può fare ovviamente sempre sempre meglio, io sono un giocatore che vorrei toccare cento palloni a partita, è normale, in questa partita ce ne ho toccati pochi, però si deve lavorare in questo senso, siamo tanti e proprio per questo motivo la vedo come una cosa positiva, che può dare stimoli e poi per ovviamente raggiungere l'obiettivo si deve essere in tanti. Enrico Losito da Taranto, dalla redazione di Canale 85. Sì, io Gianni volevo porre proprio una domanda a Falcone, a livello psicologico il Taranto probabilmente, io vorrei anche conforto da te, ci arriva meglio alla sfida col Casarano, visto che sarebbe potuto arrivarci con la sconfitta di Sorrento, invece ci arriva rinfrancato dalla vittoria col Brindisi e poi ti volevo chiedere a tuo avviso se già la gara di Casarano potrebbe essere uno snodo importante, anche a livello psicologico, perché vi confronterete di sicuro con una delle corazzate del campionato e probabilmente, rispetto a quello che dicono gli addetti ai lavori, alla squadra favorita nel girone. Sì, allora, una vittoria fa sempre bene al morale, però ricordo che dopo la sconfitta di Sorrento eravamo veramente carichi, quindi non so tra le due ipotesi qual è la migliore, ci arriveremo comunque bene, però ricordo la settimana dopo Sorrento che non vedevamo l'ora di scendere in campo perché eravamo abbastanza, diciamo, arrabbiati e ci arriveremo comunque bene, perché comunque è una vittoria importante e una partita che si prepara da sola, non sarà decisiva, perché il campionato è lungo, però sappiamo che ci giochiamo qualcosa di importante. Nicolás Bremec, tu l'hai vissuto fino all'anno scorso l'ambiente di Casarano, di sicuro una società ambiziosa e tra l'altro hanno rilanciato il progetto rinforzando anche la squadra. Sì, certo, è una società ambiziosa che ha speso un sacco di soldi questo campionato penso di più dell'anno scorso, quindi credo che questa domenica diciamo un po' il palino della pressione ce l'avranno loro in questo momento, perché conoscendo la piazza, anche lì di là che non hanno tanti tifosi come Taranto, Foggia, Bari, è una piazza esigente, quindi dopo questa sconfitta con un derby a Nardò che ci tengono tanto parecchio loro e penso che qualcosa arriverà in più come peso psicologico per loro. Poi per il Taranto penso che devi continuare, ma ci sta la sconfitta con il Sorrento che hanno giocato molto meglio il Taranto che il Sorrento, può andare così il calcio, però hanno ripreso, hanno vinto questa partita che era un altro derby in casa col Brindisi, quindi dobbiamo partire di là. Secondo me approfittare questo momento psicologico, che sempre ci deve essere la fame dentro, e dire io sono il Taranto, vado a che saranno a fare il risultato. Poi se si vince, ben venga, perché poi vanno a 13 punti, a 3 del Sorrento e iniziano a dare già fastidio a quelli davanti. A te Gianni. E allora andiamo ad ascoltare il protagonista che rimarrà poi sui tabellini per sempre, cioè Alberto Acquadro che ha segnato questo gol da 3 punti al quarantesimo del primo tempo. Sentiamo l'intervista. Alberto Acquadro, prima rete in campionato, descrivici questo gol, sei stato tra l'altro il man of the match. Sì, è stata una bella partita, una bella prestazione, sono contento di questa vittoria. Il gol è stata una palla rubata, dove abbiamo sviluppato poi l'azione sulla fascia, Falcone ha tenuto palla, Caldore è andato in sovrapposizione, ha fatto questo cross, sono andato in anticipo sul primo palo e ho spizzato questa palla e sono uscito a far gol. Per quanto riguarda la prossima gara, si giocherà a Casarano. Quanta consapevolezza vi dà questa vittoria nei vostri mezzi e tra l'altro affronterete di sicuro una delle corazzate del girone, probabilmente la squadra che è la maggiore accreditata alla vittoria finale. Beh, conosciamo la forza dell'avversario, conosciamo i giocatori, sappiamo la qualità che hanno, ma noi andremo là per fare la nostra partita, per giocare il nostro calcio, quindi vedremo domenica prossima. Noi sicuramente daremo tutto e speriamo di portare a casa un risultato utile. Ecco, in testa della classifica, Claudio, c'è il Sorrento che inaspettatamente sta lì e ha suon di risultati, di vittoria anche in trasferta, oltre a Spugnaro, lo Giacoboni ha vinto anche ad Altamura, quindi è una squadra che secondo te può arrivare fino in fondo, per esempio penso agli esploat recenti del Picerno, che viene fuori, sono tutte le favorite e poi ne viene fuori una, e può essere così. No, vabbè, è chiaro che sono primi in classifica, evidentemente meritano la posizione che hanno, stanno evidentemente sfruttando una buona partenza, ovviamente ci sono squadre che hanno alcuni ritmi che si vedono a distanza, altri che partano in un ritmo maggiore, quindi speriamo che abbiano un calcio, mi dispiace per il Sorrento, però spero che capiti in modo tale che abbiano qualche defalianza durante il percorso, però è vero, negli anni siamo stati abituati a qualche esploat, speriamo che non ce ne sia anche quest'anno, ecco, quindi. Ecco, su questo come la vede Luigi Falcone? Io, perché comunque loro sono lì, diciamo giustamente, anche se contro di noi hanno fatto una partita solo su, diciamo, ripartenze, e speriamo che abbiano un calo e che noi possiamo avanzare sempre di più. Perché poi le altre squadre, insomma, quelle che almeno sulla carta alla vigilia sembravano un po' più accreditate, anzi decisamente accreditate, mi riferisco al Picerno, al Bitonto, il Cerignola, il Casarano, cioè non è che abbiano fatto poi sfracelli durante questa prima parte della stagione, anzi, tutt'altro, vero? Cioè, almeno questi sono i risultati, anche se siamo soltanto all'inizio dopo cinque partite. Falcone. Sì, sì, infatti le squadre che, diciamo, dovevano essere lì su, al momento hanno avuto qualche difficoltà, però sappiamo benissimo che il campionato è molto, molto lungo, quindi è ancora presto per, diciamo, fare dei ragionamenti in questo senso. Certo, fa strano sentire queste parole quando siamo quasi a dicembre e di solito a dicembre c'è il giro di Boa, no Claudio? Infatti, è una stagione anomala, se guardiamo anche la classifica della Serie A, ci si rende conto che oggettivamente è un campionato strano per tutti, come tempistica, come modi, come ambiente, come tutto, quindi sarà un anno particolare e magari proprio perché è particolare. Enrico, volevo fare un inciso, bene gli juniores, tutti, perché abbiamo visto, insomma, Fosito è stato poco impegnato. Boccia ha fatto una delle sue migliori partite, ha salvato anche un gol in difesa. Diabì al centrocampo ha fatto un partitone, è uscito, se ci fosse stato il pubblico tra gli applausi, ma è uscito con un bel voto in pagella. E poi anche Serafino, che continua a dimostrare di essere un giocatore molto importante dal punto di vista tattico, anche se però dovrebbe cominciare a guardare un po' di più la porta. Vorrei una valutazione su questo da parte dei presenti, iniziando da Claudio Miale. È sempre stato un nodo importante, soprattutto a Taranto, quindi va dato merito anche a Francesco, al direttore Montervino, che anche nelle sue precedenti avventure a Taranto ha sempre mostrato sia... che ha scoporto giovani importanti e si stanno rivelando anche quest'anno all'altezza del Taranto. Ovviamente si è partito anche da una buona base, come lo stesso Ferrara, che... Che si è fermato di nuovo. Esatto, mi dispiace. Però dai, il campionato è lungo, quindi sicuramente la batteria degli under è importante. Ed è la cosa più difficile, secondo me, a Taranto, negli anni in cui c'è stato anche io. La pressione, non tutti i giovani sono pronti anche perché vengono spesso da campionati primavera, in cui le pressioni non ci sono, quindi a Taranto non è facile. E anche i giovani, oltre agli over, si stanno rivelando all'altezza. Falcone, io direi di sottolineare la prestazione di Marsidi perché è stato il vero capitano in campo domenica scorsa. Ci dici due parole in più su questo capitano? Il capitano è anche in camera con me in ritiro. Ho subito legato, è un punto di riferimento per noi, sia dentro che fuori dal campo. L'ho conosciuto ora quest'anno, lo conoscevo ovviamente come giocatore. È stata una bellissima sorpresa per me. Sono molto molto contento, ma anche per tutti gli under, sono under di assoluta qualità. Facendo un esempio con la Serie C, l'anno scorso ero a Pistoia e avevamo in squadra 5 under, perché giocavamo sempre con tanti giovani, la differenza non si vede. Sono under importanti e di personalità. Enrico, c'è un aspetto sul quale secondo me vale la pena soffermarsi un attimo. Ti do un assist per proseguire il dibattito. L'Ag0 non ha fatto neanche un minuto e questo sinceramente crea un punto interrogativo. Un giocatore di questo spessore che rimane in panchina. Ovviamente poi il mister fa le sue scelte, è logico, però qui si analizza, si discute. Stracqualursi è entrato a pochissimi minuti dalla fine. Un giocatore che sta, da quando è arrivato, cercando di acquisire la migliore condizione fisica e poi anche la scelta di Matute in panchina. Quasi una sorta di rivoluzione, direi, non nella scelta degli uomini, non nell'atteggiamento tattico perché viene confermato questo 4-2-3-1 con Diabie e Marsili che hanno fatto frangi flutti, centrocampisti mediani di questo modulo. Guarda Gianni, io credo che le scelte del mister, lo aveva detto già il sabato, e si era anche un po' tradito su Stracqualursi, perché effettivamente ci aspettavamo Serafino. In conferenza stampa c'è un passaggio particolare. Per quanto riguarda le scelte, credo che siano state anche le scelte dettate oltre che dal terreno di gioco, qui mi potrà dare anche supporto e conforto Luigi Falcone anche dalla forma fisica, perché abbiamo visto un Diabie effettivamente stratosferico al di là dei crampi. Tra l'altro ci risulta che una squadra di Serie A italiana l'abbia già adocchiato. Tra l'altro, aggiungo a quello che aveva detto anche Claudio Miale, e gli altri under che aveva portato Montervino a Taranto in quella stagione, che oltre a Porcino c'erano Cicerelli, Gabrielloni, Mirarco, comunque dei giocatori ottimi e che fecero bene in quella stagione. Tra l'altro poi, non viene molto pubblicizzato, però lo vorrei comunque citare io, Montervino viene coadiuvato quest'anno da Massimo Pipolo, che è un talent scout molto conosciuto in Campania. Io ero sicuro che quest'anno il DS Montervino avrebbe portato a Taranto altri giovani molto interessanti, vorrei parlarne proprio anche con Nicolas. Sì, penso che come ha detto Miale, è molto importante gli under, soprattutto in questa categoria. Una volta che l'hai scelto, hai avuto l'occhio buono, ho avuto Montervino, anche il collaboratore suo, e hanno dimostrato in campo di essere all'altezza, quello può essere un'arma in più, perché io per le esperienze che ho avuto come preparatore portiere, primo anno di Cassarano in Celenza, l'anno scorso in Serie D, anche all'inizio di questo campionato all'Alta Mura, e vedendo anche un po' i giovani, se hai giovani che magari non sa gestire le pressioni, è un problema poi in campo, perché poi sai che ti manca un pezzo, in particolare di quel ruolo là, quindi penso che questo anno, come tutti gli altri anni, è importante avere questi under che vanno, che funzionano, e che non sentono la pressione. Magari anche questo, anche il fatto che le porte sono chiuse, e possono approfittare loro per crescere, perché è il primo anno che giocano, quindi è sempre un'incognita. E tra l'altro mancava al Taranto anche Ferrara, che ormai è un veterano. A te Gianni. E allora andiamo a proposito di Juniores, andiamo a conoscere più da vicino questo Diaby, che tra l'altro non lo dimentichiamo, è uno Juniores del 2000, due metri di statura, quindi una presenza imponente al centro campo, le lunghe leve, ha una falcata impressionante, e poi ha anche una buona qualità. Vediamo, sentiamo le sue dichiarazioni. Abubakar Diaby non volevi proprio uscire, anche se era stata chiamata la sostituzione, però spero nulla di grave, soltanto dei crampi in questa gara. Sì, sicuramente, volevo rimanere con la squadra, perché lo sappiamo, con la squadra volevo dare sempre il massimo, ma purtroppo ho avuto qualche crampi, ma non sono niente di che, solo qualche crampi, e spero dal mattedì torneremo ancora a lavorare con la squadra, perché sappiamo che domenica abbiamo una partita molto importante ancora. Come ti sei trovato nel Taranto, in questo centro campo, con Max Marsili? Vedevamo anche che mister La Terza ti richiamava molto ad alzarti, anche ad andare in avanti, a fare sempre pressione. Sì, perché il mister mi aiutava a dirmi di salire, ma comunque per me giocare accanto di Maxili, giocare accanto di Maxili è un giocatore molto importante per me, perché mi aiuta a crescere, soprattutto perché giocare accanto di Max per me è qualcosa di molto importante, perché lui mi aiuta tantissimo a crescere, e su questo non c'è dubbio. Comunque allora cerco sempre di dare il massimo, perché con questo Taranto veramente abbiamo qualcosa da dire, ma come ha detto prima il capitano, affrontiamo domenica dopo domenica, e cerchiamo sempre di dare il massimo. Che ne pensi un'ultima battuta della gara di Casarano? Potrebbe essere già una gara decisiva per vedere quella che è la forza del Taranto? Sì, comunque su questa partita lo sappiamo, tra noi sarà una partita importante anche per loro, anche per noi, quindi per noi sicuramente cercheremo di dare il massimo, perché non portarci i tre punti a casa, comunque daremo sempre il massimo. Grazie. Questo ragazzo fa la strada sicuramente, perché è un centrocampista dai piedi buoni, con la cattiveria giusta, ha quell'intensità, che tu sai bene Claudio, quanto può servire in questi campionati, in quel ruolo. Beh, anche giovane, quindi ha il vigore fisico, quindi mi auguro per lui che faccia bene per se stesso qui a Taranto, e ovviamente anche per la squadra, quindi sicuramente è aiutato dai ragazzi più grandi, dallo stesso Max, che ha una garanzia lì in mezzo al campo, quindi non può che migliorare. E allora cominciamo, mentre scorrono le immagini di Taranto Brindisi, a parlare della prossima partita, perché si giocherà al Capozza, domenica 29 novembre, partita che sarà trasmessa in diretta, come sempre, da Canale 85. Vorrei chiedere a Falcone, ecco, di farci qualche anticipazione su come state preparando questa partita, perché è una partita che, come dicevamo, guardando la classifica, può significare molto in questo particolare momento del campionato, cioè rosicchiare terreno e mettersi in una posizione che poi vi potrebbe dare anche più fiducia, un maggiore stato d'animo. Luigi Falcone. Sì, è una partita che si prepara da sola, come ho detto prima, perché è una partita importante, ci aspetta sicuramente una gara particolare, ci vorrà equilibrio, perché affrontiamo una squadra preparata come noi, e quindi dobbiamo entrare in campo con quella consapevolezza, ma anche con quella concentrazione che ci può permettere di fare un risultato importante. Tra l'altro, Enrico, Nicolás, il Taranto troverà una squadra arrabbiata, come si dice in gergo sportivo, perché una pesante sconfitta, quella subita dal Casarano, e forse anche in aspettata, il Giovanni Paolo II di Nardò per 2-0, contro un Nardò che, almeno sulla carta, non ha le potenzialità del Casarano, però il calcio è bello, proprio per questo motivo, che può succedere davvero di tutto. Quindi, ecco, sarà, secondo voi, una partita più complicata, proprio per questo motivo, oppure no? Io, ci ha dato un affresco bellissimo, Luigi Falcone, che è una gara che si prepara da sola, quindi, credo che davvero questo lo posso rigirare a Nicolás Bremec, che tra l'altro ha anche qualcosa da dire su Nardò Casarano, c'era anche qualche calciatore con il dente avvelenato, che gara ti aspetti? Sì, no, conoscendo, prima volevo dire a Falcone che ha ragione, perché sono queste partite che le prepari tu già da solo, ovviamente poi il Mist, può fare la parte tattica e le palline attive, però penso che loro già saranno carichi per arrivare la domenica a Casarano, una gara che ogni giocatore vuole giocare, no? Poi, conoscendo l'ambiente a Casarano, all'interno, stando io, quando le cose non andavano bene, so che le avranno messo una bella pressione, i giocatori, le riunioni ci saranno state, quindi anche loro arriveranno belli carichi la domenica, poi, ovviamente mi parlavi di Nardò Casarano, non è scontro, però c'è stato un ex che ha fatto il gol alla fine e ha insultato in forma un po' esaltante, perché c'aveva qualcosa dentro lui, no? Però comunque i derby sono sempre particolari, quindi sfugge un po' dal pronostico, anche se comunque Nardò, al di là di tutto, è una buona squadra. Sì, è nato una buona squadra, ma sulla carta, se vedevi il Casarano, dicevi che la poteva vincere, però è sempre difficile andare a Nardò a vincere, anche l'anno scorso noi ci siamo andati due volte, abbiamo perso il Coppa Italia in campionato, no? A te Gianni. Falcone, cosa temete di più di questa trasferta? La rabbia del Casarano, oppure il potenziale tecnico, che poi finora non è venuto così in maniera evidente a Gallo, almeno in queste prime partite di campionato? Noi non dobbiamo temere niente, perché comunque noi siamo il Taranto, e quindi è giusto che si rispetti l'avversario, perché sappiamo che è una squadra importante, però dobbiamo fare la nostra partita, siamo una squadra preparata, abbiamo una rosa lunga, e quindi siamo pronti a tutto. Claudio, e tu come la prepareresti questa partita, vista la tua esperienza? Sicuramente, mi rifaccio le parole che ha detto Luigi, e lo stesso Nicolas, si prepara da sola, e ovviamente l'allenatore ci metterà dal punto di vista tattico, e organizzativo, la partita sul campo, poi l'interpretazione personale, e dei concetti, dei giocatori della personalità, farà la differenza, quindi il carattere lo metterà sicuramente, e della squadra sarà il gruppo, però la personalità poi è soggettiva, quindi sicuramente sarà una partita dove, secondo me la spunterà chi avrà più personalità, quindi sono due squadre organizzate, io ho visto qualche partita quest'anno del Taranto, si vede che hanno organizzazione dal punto di vista tattico, dalle uscite, dalla fase di non possesso, di possesso, quindi sono preparati, e come a grandi livelli, nelle partite fondamentali, contro la personalità dei giocatori, quindi vedo una grossa fiducia, e speriamo bene. Mi dai una tua valutazione su Giuseppe La Terza, che tra l'altro tu conosci abbastanza bene, credo? Sì, sì, io lo conosco lavorativamente, non abbiamo mai lavorato insieme, però negli ambienti, difficilmente si sbaglia, quindi sono contento che il mister, abbia questa possibilità di lanerare a Taranto, anche perché secondo me, per la mia piccola esperienza o grande, quella che sia di Taranto, visto che sono stato 12-13 anni, compreso il settore giovanile, potrebbe essere la persona e l'allenatore giusto, perché è una persona pulita, eticamente una bravissima persona, ci mette tantissimo, è di suo, vive H24 questa professione come tutti, è una persona coerente, quindi questo è importante, quindi cerca, io dico sempre che nella vita si può sbagliare, come nel calcio, l'importante è sbagliare in buona fede, quindi dà sempre priorità al gruppo, e Luigi me ne sta dando conferma, il raga Falcone, quindi questa è una base importante, poi ovviamente c'è anche l'aspetto tecnico e tattico, dove sarà il campo anche a giudicare, Luigi Falcone, tu hai fatto una carriera fino a questo momento, abbastanza importante, quindi hai il metro di valutazione giusto, qual è la caratteristica del tecnico del Taranto, che più ti ha colpito, in questo mese e mezzo di permanenza a Taranto? Allora, può essere un fattore importante per noi, perché oltre al gruppo, appena sono arrivato, il mister con tutto lo staff, è stato il fattore che mi ha colpito di più, perché comunque ho girato un po', e trovare una persona preparata, una persona tra virgolette pulita, ecco, schietta, che ti lascia tranquillità, poi indi sappiamo che con tanti giovani è importante, non lasciare tranquillità al giocatore, lo lascia anche a noi, a noi grandi, quindi è tutto tutto positivo, e può essere un fattore importante per noi. E allora ricordiamo che tra poco, per chiudere questa trasmissione, vi manderemo in onda, vi proporremo delle immagini inedite, attraverso le quali andremo a rivivere il derby Taranto-Brindisi, con il montaggio di Angelo Todoro, quindi si torna a giocare in campionato, si torna a giocare in casa, e quindi abbiamo avuto la possibilità di sistemare queste otto telecamere sul terreno di gioco dello Iacovoni, tra cui anche due nelle porte, pertanto vedrete Taranto-Brindisi, davvero come non l'avete mai vista. Che dice Enrico, ci andiamo a vedere la scheda di Vito di noi sul Casarano, prossimo avversario del Taranto? Certo, ormai è un must la scheda di Vito. Vediamo, di noi. È tempo, forze, di Casarano Taranto. Il big match della quinta giornata, andato già incontro a tre rinvii, è stato programmato per il 29 novembre, e al netto dei risultati maturati domenica scorsa, profuma già di sfida decisiva in chiave primato. I ross-azzurri nel dettaglio sono reduci dalla clamorosa quanto inaspettata sconfitta di Nardò, risultato che ha confermato quanto già si sospettava qualche tempo indietro. Se il Casarano versione casalinga è una macchina da guerra, lontano dalle mure amiche, le geometrie non funzionano ancora al meglio. Categorico Feola nel post-derby, cambiare marcia è subito, altrimenti non si va da nessuna parte. I primi accorgimenti, in vista della sfida al Taranto, dovrebbero materializzarsi già in chiave tattica. Il 4-2-3-1, impiegato domenica scorsa che in fase offensiva si trasformava a tutti gli effetti in un 4-2-4, non ha convinto del tutto, perciò si fa sempre più concreta l'ipotesi di un ritorno al 4-3-3. Nessuna preoccupazione invece sul fronte tecnico. Una rosa completa in tutti i reparti fa dormire sonni tranquilli all'allenatore rossazzurro. Il big match della quinta giornata sarà anche la sfida dei tanti ex. Nel Casarano militano il difensore Benvenga, il centrocampista Bruno e gli attaccanti El Wasni e Favetta, conoscenze più o meno recenti del calcio rosso-blu, mentre l'unico ex della formazione salentina è Leandro Guaita, che rossazzurro vanta una breve parentesi a cavallo tra il 2010 e il 2011. Al Capozza si contano sette precedenti tra le due squadre, cinque i pareggi complessivi e un successo per parte, ultimo dei quali datato settembre 2019 ad appannaggio del Taranto, che grazie a un guizzo di Genchi per la prima volta nella storia portò via tre punti dall'impianto salentino. Adesso vorrei fare una domanda così un po' particolare a Falcone, perché quella di domenica prossima giocando il 29 novembre è l'ultima partita prima della riapertura del mercato. Può avere un significato particolare tutto questo, Luigi? Domanda particolare, sì. Velenosa, diciamo così. Diciamo che non ci possiamo pensare perché abbiamo appena iniziato. Siamo sì a dicembre, però abbiamo fatto quattro partite, cinque partite. Eh sì, strano. Quindi dobbiamo pensare in funzione di quello che è e non di quello che sarà. Senti, Claudio, tu che hai tanta esperienza a tal proposito, queste partite che arrivano a fine novembre, no? Sono sempre un po' delicate dal punto di vista della mentalità, dell'approccio mentale. Sì, dipende dalla situazione. Quindi sono sicuro che conoscendo anche la società, che tutti i ragazzi, anche quelli che magari in questa partita hanno giocato meno, hanno la volontà di rimanere. Quindi il nodo sta lì e andare domenica a tutto il gruppo motivato e non qualcuno che magari stia pensando nell'eventualità di cambiare. La problematica è bilaterale, anche per il Casarano. Tu hai fatto nomi di Lazir, di Stragoluzzi, alla fine è gente che ha giocato, quindi sta giocando. Magari è stato un episodio o magari, come ha detto Luigi, un fattore importante di quest'anno sarà una rosa lunga. Quindi credo che il Taranto non avrà problemi in questo. Non penso che ci siano giocatori che possano pensare già a qualcos'altro, anche perché servirà una rosa lunga se non ho ancora la quinta partita, quindi sarebbe folle immaginarsi come dire, un cambio di maglia così repentino a meno che non ci sono ovviamente richieste importanti. Quindi questo poi è da vedere. Però su questo aspetto sono fiducioso. Tra l'altro Enrico Losito è già al lavoro sul mercato. O sbaglio Enrico? Non sbagli Gianni, non sbagli. Vuoi i nomi? C'è un giocatore che a chi non piace, però so che piace anche al Taranto che è l'attaccante longo della Turris, solo che sarà difficile farlo muovere dalla Campania. C'è un altro nome che chissà potrebbe spostarsi, non lo so, anche se è stato preso dal Picerno per vincere il campionato, però anche alla luce del deferimento di ieri bisogna vedere anche se il Picerno potrà in qualche modo ridimensionare i programmi. C'è Iada Resta che nelle sessioni di mercato precedenti anche con passati direttori sportivi il Taranto ha inseguito e per fisicità, per caratteristiche potrebbe anche rientrare nell'interesse del Taranto. Il Taranto ha Alphageme fuori, quindi dovrebbe comunque, farà poco sul mercato, ma dovrà inseguire anche numericamente una punta che dovrebbe essere una punta centrale. Visto che mi hai chiesto qualche anticipazione, di sicuro Longo, ecco, ti sottolineo a chi non piace. Per quanto riguarda quello che tu ci avevi detto, Gianni, io la vorrei rimbalzare proprio a Nikolas Bremec la domanda di quanto può infastidire il mercato in questo campionato che è grottesco perché siamo all'inizio e c'è un mercato quasi senza fine. Senti, a me mi viene a ridere perché giocando cinque partite già devi pensare al mercato, come fai? Anche per valutare lo stesso giocatore o l'allenatore di dire ho fatto giocare tutti i giocatori in cinque partite non è che magari non è che ha escluso uno per dieci gare di seguito quindi anche il giocatore là non lo so che deve fare perché penso soltanto un giocatore che si trova male nella società o nel gruppo o non va d'accordo col mister deve dire ok io prendo me ne vado però è troppo presto per me a livello calcistico dei gare dei partiti dei giocati quindi un mercato che inizia dopo cinque partite mi sembra molto strano non ti so valutare che mercato può essere io Gianni volevo fare una piccola domanda visto che tu l'hai fatta velenosa io la faccio un po' cattiva Luigi Falcone e per migliorare la fase offensiva Luigi il Taranto comunque mister la terza si aspetta anche i gol e i tiri in porta da voi esterni offensivi ci state sicuramente lavorando mi dai conforto su questo si posso dire che ci stiamo lavorando il reparto riparto offensivo è composto da giocatori tutti differenti no? perché siamo comunque una squadra completa anche in questo con il tempo sicuramente andrà sempre meglio perché siamo comunque una squadra che deve produrre e può produrre quindi con il lavoro arriveremo risultati sperati a te Gianni allora io direi di andare a vedere insieme le vignette di Leo Zazza per questa settimana così vediamo anche dal punto di vista della satira come ha letto il nostro vignettista questo momento particolare che si sta avvenendo certo che è una annata davvero incredibile sembra davvero di essere su scherzi a parte si apre il mercato dopo 5 giornate come diceva giustamente cioè è un mercato che secondo me è inutile a questo punto della stagione in Serie D perché si è giocato pochissimo si poteva spostare a gennaio a febbraio insomma si poteva pensare sì le valutazioni sono difficili a meno che come ha detto Nicolás un giocatore non sia bene col gruppo ha richieste particolari quindi non penso che la società pensi già delle bocciature quindi sarebbe alquanto inopportuno ecco dopo solo 5 partite effettive sul campo allora vediamo la vignetta la prima vignetta di Leo Zazza che ci propone Michele Marchitelli il nostro regista vediamo questa immagine di Max Marsili che è il capitano del Taranto non è stato facile uscire da un mese di inattività e questo ovviamente è quello che poi abbiamo notato subito anche se proprio da Marsili abbiamo visto una condizione atletica invidiabile e forse proprio nel pieno della sua maturità andiamo avanti con le vignette di Leo Zazza ecco rimaniamo al centrocampo con Diabì giovane gigante due metri ecco interpretato visto così ecco dai suoi avversari che insomma lo guardano dal basso verso l'alto nonostante i suoi vent'anni juniores del Taranto di centrocampo vediamo la terza vignetta a quadro 10 eccolo qui il nostro goleador di giornata con il numero 10 quel bellissimo numero che è affascinante che ha fatto un gran gol devo dire molto bello dal punto di vista estetico a tal proposito vi ricordo che tra poco vedremo le immagini un servizio immagini e musica che ci racconterà Taranto Brindisi in maniera inedita con il montaggio di Angelo Todaro allora siamo quasi ai momenti finali Enrico passiamo dunque al pensiero finale da parte di tutti inizierei proprio con Luigi Falcone allora ecco non c'è stata conferenza stampa per la tua presentazione come del resto per nessuno per motivi legati al distanziamento alle norme per evitare il diffondere del contagio ma rivolgiti direttamente ai tifosi del Taranto che non hai neanche la possibilità di sentire dal vivo sugli spalti e lancia il tuo personale messaggio allora è un anno particolare per tutti sia per noi che per loro purtroppo come ho detto prima arrivo a Taranto e non c'è la possibilità di vedere un stadio pieno quindi dobbiamo tenere duro e con i risultati sicuramente ci possiamo amalgamare sempre di più e arrivare tutti insieme con un grande equilibrio al nostro risultato sperato e ovviamente la speranza è di vedere almeno qualche partita con il pubblico con la normalità alla quale siamo abituati per parlare di calcio per parlare di una partita con tutte le sue componenti e ovviamente quella del pubblico è imprescindibile Enrico lo sito e Nicola Sbremec dalla redazione di Taranto di Canale 85 il pensiero finale ovviamente a Nicola Sbremec che ringrazio della partecipazione per noi è un piacere averti qui Nicola Sank anche perché ormai sei diventato un tarantino ad adozione per quanto riguarda Casarano Taranto che gara ti aspetti? Penso sarà la gara da vedere da Girone H quella che tutti vorranno vedere che tutti vorranno giocare quindi si vedrà una partita sicuramente molto aperta due squadre che voglio vincere nessuna non penso che il Taranto andrà a difendersi come ha fatto il Sorrento con il Taranto quindi sono due squadre grandi del Girone H che vogliono vincere quindi a vista aperto sarà questa partita Gianni a te studio e ovviamente buona serata a Claudio Miale e a Luigi Falcone e a tutti i telespettatori grazie Enrico Losito grazie a Nicola che saluto sempre con grandissimo affetto quello che ha scritto lui con la maglia del Taranto è un testamento importante perché ha lasciato alla storia una squadra pazzesca che ogni volta che lo guardo in faccia ma la ricordo come se fosse ieri grazie grazie anche a Luigi Falcone che salutiamo possiamo chiudere il collegamento Skype anche con lui grazie ecco un pensiero finale anche da parte di Claudio Miale che tra l'altro continua a giocare lui è nato nel 1982 esordito da Juniores con la maglia del Taranto nel lontano 1998 quando il Taranto era in Serie D e c'era adesso non ricordo l'allenatore Capuzzo era l'allenatore sono andato a memoria Fasano Taranto Fasano Taranto quindi era anche una partita abbastanza importante e poi l'abbiamo visto da capitano maturo da uomo maturo fino anzi ha fatto pure il raccattapalle questo è bene perché l'altra fila è quella il tuo pensiero finale era troppo bene cioè era tra l'altro un uomo onesto un calciatore un calciatore importante in campo questo non devo dirlo io perché lo conoscete bene però ecco un uomo perché lui ha denunciato anche un tentativo di Combin quando vestiva la maglia del Taranto insomma incorruttibile ecco magari ce ne fosse adesso lo sanno che non ti devo niente pertanto sono parole sincere il tuo pensiero finale riguardo a Taranto Casarano è certo sì l'attualità adesso è quella sarà una partita importante come abbiamo detto prima quindi sicuramente il Taranto sarà andato a giocare e niente ovviamente sarà una partita da tripla perché entrambe le squadre hanno abizioni quindi sarà gustosa vederla quindi sarà una partita di cartello e niente dai ce la gusteremo domenica allora io adesso vi lascio con un lungo servizio inedito legato all'ultima partita giocata dal Taranto in casa ovvero Taranto Brindisi con le immagini che sono state realizzate da Fabio Todaro Roberto Ruta Marino Minetola e Palmo De Santis con il montaggio di Angelo Todaro ve lo consiglio perché davvero bello magari da tenere in archivio per ricordare questa partita anche negli anni grazie per l'attenzione ringraziamo anche la nostra regia che è stata curata da Michele Marchitelli Rosso Blu 65 come sempre tornerà martedì prossimo su questa rete arrivederci a chi viene Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!